Non è niente il cavallo quello là, oltre, veloce, vai via, sei da posto pronti! Parto! Il retrovie ha accolto un brutto break proprio favorito, Mara d'Inverno, che ha perso qualche lunghezza la via, mentre dal gruppo scatta, nel vero senso della parola, Estupesca, che figura subito in vantaggio. Su Cherry Street, che è in giubba verde, organizza l'inseguimento, avendo all'interno Darling Filly, più dietro Buck Forever, insieme a Nino Nosei, poi ancora Austro, a largo avanza Blue Roma L'Empire, che adesso è quinto, e in coda tutti Mara d'Inverno, insieme a Supercorte Maggiore. Gruppo sfilacciatissimo, con Estupesca, lanciato via nel suo canonico percorso d'avanguardia. In seconda posizione Cherry Street a largo, all'interno c'è Darling Filly con il cap arancio, seguono Buck Forever e Blue Roma L'Empire, quest'ultimo di fuori in giallo-nero, poi ancora Austro, Nino Nosei, Supercorte Maggiore, Goldrake a chiudere il gruppo, c'è sempre Mara d'Inverno. Siamo sulla curva, con le posizioni sempre allungatissime, sempre in avanti Estupesca su Darling Filly, al terzo all'interno Buck Forever, Cherry Street che prova di maniera in quota, avendo in scia Blue Roma L'Empire, all'argo invece c'è l'avanzata da parte di Austro che prova a risalire dal gruppo. E sempre Estupesca in vantaggio su Darling Filly che lo segue da vicino, al terzo Buck Forever, poi Austro, poi ancora Goldrake, all'argo di tutti, Nino Nosei e Mara d'Inverno all'estremo esterno della compagnia. Darling Filly che è passato in vantaggio sull'attacco da parte di Buck Forever, poi ancora Austro a centropista, Mara d'Inverno all'argo di tutti, Darling Filly in vantaggio su Buck Forever e Austro, Mara d'Inverno che è rimasto un po' lì, Darling Filly che è da solo al comando su Buck Forever che l'attacca, Austro a largo che prova a intervenire nell'ultimo tratto, Buck Forever su Darling Filly, Buck Forever e Darling Filly in lotta fin sul palo, Buck Forever e Darling Filly in linea davanti ad Austro che è terzo. Buck Forever e Darling Filly in un bellissimo testa a testa con Buck Forever che all'esterno interviene su Darling Filly. che ha provato la difesa ma Buck Forever alla fine passa di prepotenza, a quota anche shock per Andrea Mezzatesta, la signora Martinelli ai colori e il signor Discepolo al training.